A Rocca Mandolfi in visita ufficiale il prefetto di Sernia, Gabriella Faramondi, per conoscere le peculiarità e le criticità del territorio. Il prefetto ha visitato la chiesa di San Giacomo Maggiore, le spoglie di San Liberato Martire, il museo dei presepi dal mondo e quello del brigantaggio, imparando a conoscere quelle pagine che, tra storia e leggenda, in passato hanno reso il borgo in provincia di Sernia, la patria dei briganti. La dottoressa Faramondi ha apprezzato il senso di accoglienza dei cittadini e ha promesso di tornare presto a Rocca Mandolfi. Un comune caratterizzato da un forte spirito di accoglienza è quello che ho percepito oggi, non solo nell'incontro qui con il sindaco e l'amministrazione comunale, ma anche passeggiando per le vie di questo paese ho potuto apprezzare tanti sorrisi, un forte senso di ospitalità e credo che questo sia il valore forte, il valore aggiunto di questo territorio e un valore che ho riscontrato anche in altre realtà della provincia di Sernia. Soddisfatto il sindaco Giacomo Lombardi che ha accolto l'occasione per sottoporre al prefetto il problema dei cinghiali. Abbiamo chiesto a Sua Eccellenza di farsi carico di questo problema e di rappresentarlo nelle sedi opportuno, perché è diventato un problema non solo di sicurezza, ma che va a danneggiare anche i nostri agricoltori, i nostri pastori e quindi abbiamo avuto ampia disponibilità che ci saranno interessamenti, in tal senso, per la verità già c'è stato, ma ci sarà nuovo impulso per risolvere definitivamente questa problematica. Grazie a voi.